un saluto agli amici di medico snake allora qualche settimana fa se non sbaglio due o magari tre settimane fa non mi ricordo precisamente vi avevo portato un video là dove vi avevo parlato di tutte quelle funzionalità e gesture messe a disposizione dalla oxygen os del mio carissimo one plus si ragazzi non me lo chiedete ma sto amando così tanto questo dispositivo rispetto agli altri che ho avuto ma in questo video voglio parlarvi di tutti quegli aspetti estetici ma soprattutto particolari che a me beh in un certo senso me lo fanno tirare fuori dalla tasca solo per poterlo ammirare quindi vi parlerò di quei piccoli aspetti estetici che per me fanno la differenza ma ma soprattutto quei piccoli particolari quindi noi ci vediamo subito dopo la sigla allora partiamo subito dalla parte posteriore del mio carissimo e amato one plus e soprattutto sulla parte posteriore beh ci stanno quelle scritte che non possono guardarle per esempio la prima scritta che mi sta all'occhio design by one plus beh credetemi vedere quella scritta per me è un particolare veramente non smetterò mai di ammirarla quando guardo il dispositivo sulla parte posteriore ma sulla parte posteriore beh l'altra cosa che a me mi veramente mi piace così tanto è quel bel logo one plus credetemi ragazzi beh sto diventando un po come oserei dire veramente un fan sfegatato proprio come carismo snucolo sul suo canale e credetemi guardare quello che per me è qualcosa di veramente eccezionale quel quadrato che racchiude un uno all'interno e la più in alto a destra beh ragazzi veramente lì ci sta tutta la storia di one plus in quel logo rimanendo sempre sulla parte posteriore beh la cosa che anche mi piace guardare ma soprattutto utilizzare in alcuni aspetti è quel sensore di impronte digitali il sensore biometrico posto veramente molto bene appunto giusto non appena lo tiro fuori dalla tasca beh posso subito sbloccarlo perché come potete vedere il posto in una posizione molto comoda facile da raggiungere e il dispositivo lo riusciamo a sbloccare in meno di un secondo ma tralasciando adesso la parte posteriore del carissimo e mio amatissimo one plus 6 credetemi ragazzi durante questo video lo dirò un bel po di volte parliamo dell'aspetto frontale l'aspetto frontale beh all'inizio quando è nato il notch non era amato da tutti però devo dire che io utilizzando quei notch beh a me non dispiace così tanto perché mi ci sono abituato guardando i video in full screen diciamo quei notch quella tacca non mi dà nemmeno tanto fastidio quando guardo un video ma devo dire è piacevole anche perché non è molto accentuato rispetto ad iphone x come oserei dire l'altra cosa che mi piace di questo dispositivo è il display un display ragazzi beh non so se è il termine giusto veramente borderless quasi tutto schermo ho disattivato addirittura i bussanti di navigazione proprio per poter sfruttare l'intero display beh devo dire che questo one plus mi sta vi ho detto mi piace sta continuando a piacermi veramente tanto l'altra cosa che mi piace di questo dispositivo e ve l'ho detta anche nel video precedente che trovate qua in atto a destra per voi e qua in basso nel nella descrizione del video trovate il link là dove potete andare a guardare il video precedente oppure magari alla fine di questo video lo trovate nei video suggeriti l'altra cosa che mi piace è quel pulsante zigrinato sul lato destro quello che consente di attivare o disattivare la suoneria mettere in vibrazione attivare il silenzioso beh ragazzi subito facile da raggiungere a scatti ed è molto molto facile riconoscere a parte pulsante ma in base allo scatto che da possiamo subito riconoscere su quale modalità abbiamo impostato il nostro dispositivo tra suoneria vibrazione e silenzioso beh ragazzi devo dire che di questo mio oneplus 7 ve ne parlerò poco per volta perché veramente ci sta molto molto da dire ma un'altra cosa mi dimenticavo di dire che si riguarda la cover ragazzi perché anche la cover porta quella scritta design by oneplus che a me subito è stata dall'occhio non appena l'ho tirata fuori dalla confezione beh credetemi sono quei particolari che me lo fanno amare veramente così tanto non so è una cosa indescrivibile ragazzi però però devo dire che sulla parte posteriore oltre che avere il vetro beh sì vedo lo rendo un po scivoloso ma non posso far altro che utilizzare la cover in dotazione che mi è uscita dalla confezione che me lo fa mantenere in mano e mi fa avere una presa ben salda quindi ragazzi beh questi erano tutti quei particolari che mi piacevano della parte estetica di oneplus adesso non resta altro che farmi sapere la vostra qua in basso nei commenti se questo video vi è piaciuto vi raccomando lasciate tanti bei pollicioni in su e adesso solita animazione l'animazione che vi ricorda di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto attivare la famosissima campanellina delle notifiche per rimanere aggiornati sui miei prossimi video in uscita ma soprattutto condividere questi video perché aiutano moltissimo il canale voglio ricordarvi che sono presente anche su instagram chioccio la mitico snake lo trovate qua in basso là dove passano tutte le novità per poi arrivare qui sul canale e noi come al solito ci vediamo sempre qui domenica mattina sul mio canale non vi dico l'orario perché dato che la settimana è molto impegnativa beh non riesco a girare video né tantomeno pubblicarlo all'orario stabilito ma stati fatti che noi ci vediamo sempre qui domenica mattina sul mio canale un saluto a tutti da mitico snake non vi dico